If I am crazy Ok però Ok 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 Salve ragazzi e benvenuti a su un nuovo video, io sono Antani e oggi siamo qui su OMSI2 Allora ragazzi oggi siamo con questo autobus che è un Inbus In realtà non lo ecco perchè se vedete c'è sottoscritto Icarus, però io l'ho ripaintato con Icarus Con Icarus e con la stasa e servizio di asporto integrato, bene oggi siamo sulla linea 25 come possiamo vedere se vediamo un attimo eccolo qua Quindi direi accendiamo il codice, oddio dove è finito qua, ok linea 25, direzione Hofbergstrassi, perfetto quindi linea 02500, vediamo se c'è la segna 25, perfetto, route 01, no, route 02, ok perfetto, vedete adesso c'è l'aggiorno. Adesso c'è ancora quello vecchio il giornale, ecco qua, Hofbergstrassi, come volevamo noi, ucro, hoffbergstrassi, perfetto, come volevamo noi, ok allora noi partiamo tra 53 minuti però non mandiamo il tempo avanti e lo facciamo andare alle 16 e 17, perfetto c'è il motore, luce, mettiamo marcia avanti e partiamo. Questa autobus è una autobus abbastanza vecchiotto, ecco quindi adesso qua farà un po' di rumore. Volevamo gli specchietti sempre, oh, una macchina qui avanti, perfetto. Dove è stare un po' stretta, per futuro ho scelto un autobus abbastanza piccoletto, ecco perché sennò... Volevamo gli specchietti sempre, ecco qua. Bene, carichiamo tutti, chiudiamo la porta, perfetto possiamo partire. Che marcia avanti, io non lo so però vabbè, mi dava problemi. Ah, questo c'ha la 1, 2, 3, capito, capito. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non si fa un po' di perdita, collega. No, non si fa un po' di perdita, bene. Oh, ce la fa? Sì, sì, dai, ce la facciamo con 53 km l'arri Andiamo su bene Perfetto Apriamo le tutte Qui saranno con tutti Dove vogliono Perfetto C'è la macchina che vuole superarmi Ma io sono un po' a mezzo alla strada Quindi non mi supera Allora, adesso in fase di risoluzione Allora, comunque ho visto vari commenti Della gente che voleva sapere I repaint e i vari download degli autobus Ecco, un attimo solo che Mi dimentico sempre Ho visto bene la freccia Sì, qua I vari repaint degli autobus Oppure il download dei mezzi Così Io sto sviluppando un sito web Per poterlo scaricare Quindi ragazzi, aspettate un po' E uscirò al sito web Dove potete vedere tutte I repaint creati Ecco, per me Da qualcuno, ecco Da uno che conosco Per me, ecco Che mi crea repaint Molto bravo Per la Sasa Ma anche per altre zene Tipo Atak Kotral In altre zene In giro, così Perfetto Ho saluto all'accelerata Gli scelta Oh, lag Lag estremo Mamma mia Quanto lag Oddio Si sblocca, spero Mamma mia Perché lagga così tanto Quindi, oh mio Oh, ce l'ho fatto Ok, ce lo possiamo fare Perfetto Oh, oh Lag, lag, lag Vabbè È basato adesso Il lag Ok 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 Grazie a tutti. Perfetta. Meggiaverosso, dai non è possibile. E c'è sempre il rosso che robina tutto. Oh, verde. E c'è ancora rosso qua. Mamma mia. Guarda che bello il nostro autobus qua. Bello, bello, bello. Oh, ecco al verde. Bello. Un altro rosso, come se non bastassero. C'è sarà uno che becchiamo a verde, boh? Grazie. Ok. Collega lì davanti. Salve, salve, salve. Sì, sì, sentate pure. Andiamo su. Fermo, eh. Oh. Mamma mia. Era rosso qua. Non l'avevo visto. Ecco qua. Noi andiamo dritti di qua. E abbiamo il rosso. Rosso qua. Oddio è iniziato a piovere Mamma mia è iniziato a piovere Che temporale che è arrivato E lagga Non si lagga troppo ragazzi Mamma mia stai iniziando a laggare troppo Vabbè sopportiamo Più che si può però Vediamo quanto lagga ancora Magari si sblocca Oh ce l'ha fatta Oh è verde Per là c'è che sembra interrosa pure questa Magari Mamma mia fa me giù acqua Verde bene Tanto piglietto io giuro Ancora fermarmi quindi O c'è la fermata o c'è il semaforo Salve salve Qua diventa verde il semaforo Qua si possa chiudere le porte Dai diventi verde Oh la Finalmente andiamo su Ben che salita Curva Su Lo bianco con l'autobus Salve Non so se Se il semaforo qui non funziona Va bene Io vado Allora Ok Ok Già verde Su Io anche alla vostra preferenziale Ritorno qua Allora Sardini Adesso La mia Sardini Qua Abbiamo pure il rosso Oh oh Ci passo Si ci passo Opla Perfetto Volentiamo Ok Ciao Collega Ok Dai su Rallentate Oddio Cosa c'è qua Ok Oddio ma non carica più niente qua Il terreno Ora finchè possiamo andare andiamo Poi La adesso Verde per noi Il triangolino lì avete visto Oh no Capiamo le porte Perfetto E andiamo Ok Perfetto Ok Adesso Oh no Adesso 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 Sì 要 Adesso Adesso dobbiamo girare qui a sinistra non possiamo dare una bella accelerata ma anche qua va bene però la massima velocità è di 70 km l'autobus vediamo già frenare per il rosso perché il rosso ci deve essere sempre ok grazie a tutti laga laga vabbè adesso sono tenere spenti i terci cristalli perché non c'è bisogno non è tanto così vedete adesso se c'è bisogno collega laggiù e va bene ok cosa vuoi fare? giocare a che si ferma dalla precedenza? imbecille retino grazie a tutti 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 Tutti impiediti a guidare, mamma mia Grazie a tutti Hanno permettato la fermata e quindi ci fermiamo Grazie a tutti L'autobus si riempie di nuovo Tutti a bordo Ciao Grazie a tutti Bene bene dai Andiamo bene Inizia a piovere di meno Quindi meno acqua, meno pioggia Meno rischio di scivolamento Di slittare Tendiamo che finisco il caricamento Grazie a tutti Passaggio a livello E giriamo a sinistra Benissimo E abbiamo finito E abbiamo finito Bene Chiuso tutto Perfetto E quindi ragazzi io vi ringrazio per aver partecipato a questo video Io vi saluto E vi ricordo E vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale E condividete questo video Più che potete E Mi raccomando Commentate se avete bisogno E ci vediamo Un prossimo video Un prossimo video Dio mio Brutto tempo è ritornato Vabbè Ciao A tutti Ciao